Per procedere sulla strada della vita cristiana occorre abbassarsi come ha fatto Gesù sulla croce. Così Papa Francesco durante la messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta ha la presenza tra l'altro dei cardinali del C9 che da oggi sono riuniti con il Pontefice fino al 16 settembre prossimo. Nella festa dell'esaltazione della Santa Croce Papa Bergoglio ha precisato poi che il diavolo ci incanta e ci porta alla rovina. Guardiamo Gesù sulla croce, ci sono belli dipinti ma la realtà era un'altra, era strapato tutto, insanguinato dai nostri peccati. Questa è la strada che lui ha presso per vincere il serpente nel suo campo. Guardare la croce di Gesù, ma non quelle croci artistiche, ben dipinte. Guardare la realtà, cosa era la croce in quel tempo. E guardare il suo percorso era Dio e annientò se stesso, si abbassò per salvarci. Anche questa è la strada del cristiano. Se un cristiano vuole andare avanti sulla strada della vita cristiana, deve abbassarsi, come si è abbassato Gesù. E la strada dell'umiltà, sì, ma anche di portare su di sé le umiliazioni, come li ha portato Gesù.